Buongiorno, oggi il vlog inizia con una nuova serenità perché cosa ho fatto stamattina, visto che è l'una passata mi sembra? Sono andata in motorizzazione per rifare l'esame di teoria e finalmente l'ho passato e per chi non sapesse la questione io l'avevo già fatta la mia prima teoria un mese e mezzo, qualcosa del genere, un mese e dieci giorni fa e avevo fatto cinque errori la rosicata delle rosicate lasciate perdere e poi rivedendo gli errori tra l'altro avrei potuto evitarne ben tre ma dettagli, oggi l'ho rifatto sono andata in realtà con una serenità maggiore e meno ansia che io è la cosa che consiglio sempre a tutti però prima naturalmente bisogna passarci per capirla però io sono ansiolitica di mio quindi va va e comunque il test oggi era o forse mi sembrava più facile dell'altra volta e infatti l'altra volta l'avevo finito in mezz'ora 25 minuti più l'ha ricontrollata mentre questa volta ho finito tutto il quiz in tipo un quarto d'ora e già da quello mi sono detto ok, vai sicura, chiudi l'esame e ciao ne ho cambiate due e tra qualche giorno potrò poi richiedere l'esame me lo inviano per email e lo posso andare a vedere perché io sono molto curiosa anche se l'ho passato voglio sapere se c'è qualcosa che ho sbagliato magari non ho sbagliato niente oggi pomeriggio vado all'autoscuola e vado a portare il foglio così domani mi stampano il foglio rosa e posso iniziare le guide e sinceramente non vedo l'ora perché guidare è sempre stato il mio sogno cioè io tipo da piccola mi ricordo quando avevo 8 anni che mi dicevo tra 10 anni potrei avere la patente cioè cosa assurda e adesso che ci sto sono troppo felice cioè lo scoglio della teoria era il mio scoglio sembrava insurmontabile però devo dire che non con tanta fatica però con costanza che è la cosa che vi consiglio di fare tanti test al giorno perché io ne ho fatti soprattutto nelle ultime due settimane ne ho fatti tipo 10 al giorno di test e comunque sono 400 domande al giorno e sono tante e ho imparato un sacco di cose io ho studiato da privatista non ho studiato in autoscuola anche se sono stata assegnata in autoscuola non ho preso parte alle lezioni cioè ci sono andata tipo due volte e poi basta sono andata sempre a fare i test su test e il primo mese che ho iniziato a studiare per fare il primo esame in realtà sono sempre andata a fare i test in autoscuola così la ragazza che c'era me li spiegava infatti ringrazio Silvia che è stata il mio angelo custode mentre dopo aver sbagliato il primo test con le 5 domande fatidiche che se sapete se ne posso sbagliare 4 io ne ho sbagliate 5 l'altro mese prima di questo esame qui io ho studiato solamente da casa e devo dire che sono stata molto brava cioè modestamente sono stata molto brava e quindi mi sento proprio oggi gloriosa non lo so e oggi pomeriggio visto che questo giorno lo sto rimandando da un po' perché volevo aspettare di farmi questo autoregalo per l'esame e vado al centro da sola perché non lo so a me piace andare in giro da sola soprattutto quando devo andare a fare shopping e anche perché le mie amiche stanno tutte in stagio come sapete io mi sono ritirata se non l'avete visto il video ve lo lascio nella scheda informazione e quindi voglio andare al centro per comprarmi un paio di scarpe e poi vedo se c'è qualcos'altro che mi piace però principalmente un paio di scarpe che io voglio da tipo 5-6 anni che non mi sono mai decisa a comprare ma che comprerò ma oggi è una giornata così e quindi mi mangio la pasta al tonno arzugo che mi ha fatto nonnina che ci ha fatto nonnina eccola qui buona buona e mi ero scordata di dirvi che oggi insieme a me e all'esame c'era anche una ragazza che mi seguiva infatti appena ho visto mi ha salutato mi ha detto buona fortuna e lo stavamo facendo insieme ci siamo anche sedute vicine e fortunatamente è passata anche lei alla sua prima volta quindi sono stata davvero felicissima mi ha fatto un sacco piacere e la volevo salutare perché non ho fatto in tempo tra l'ansia, cose, varie, eccitazioni a chiedergli il nome però sicuramente si ritroverà in queste mie parole e ti saluto e ti faccio tanti auguri per le guide prossime ciao cane saluta 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 oh dio che cos'è che cos'è comunque davvero siete troppo carine perché ho scritto su snap su instagram su twitter tipo everywhere che ho passato l'esame tutti mi avete scritto sii la ti aspettiamo e cose del genere quindi sono felice e emozionata e sapete cosa volevo fare adesso so che è un po' anticonvenzionale perché prima vi ho detto che avrei eliminato l'applicazione della patente cioè tipo dei test o qualsiasi cosa abbia a che fare con i test però voglio riprovare a fare un test non adesso dopo perché adesso mi posso godere senza sensi di colpa american horror story sto guardando american horror story ormai da un po' di tempo in realtà vi avevo detto in uno degli ultimi preferiti del mese che avrei ricominciato questa serie aspettate che mi sia spenta la luce e l'ho ricominciata dalla seconda stagione che avevo terminato cioè che avevo quasi terminato e sono arrivata alla sesta stagione che è l'ultima la più recente e infatti sto vedendo credo la 6x4 o qualcosa del genere sinceramente mi ricordo che quando uscirono le prime puntate della sesta stagione tutti erano rimasti un po' perplessi perché è un uno stile diverso di montaggio di ripresa di storia proprio di flusso degli eventi non so bene come si possa esprimere però devo dire che a me fa molto piacere perché almeno le scene paurose vengono un po' smorzate dalle scene di ripresa classica e la storia mi sta entregando molto la prima storia penso perché poi ci sono diverse storie credo comunque sono molto curiosa perché mi sono accorta che anche la terza stagione era correlata con la quinta stagione e ce n'è anche un altro comunque insomma è una figata alla fine sono tutti i vari intrecci mi sembra una cosa la beautiful e sto adorando quindi io ve la straconsiglio se non l'avete ancora iniziata mentre vi avevo accennato che avrei cominciato a vedere Salem che è un'altra serie televisiva stregonerie e cose del genere però ho visto le prime cinque puntate e non mi è piaciuto per niente e vabbè poi sto sempre vedendo The Vampire Once Upon a Time e sto aspettando perché finalmente è uscito il trailer della stagione nuova di Teen Wolf e Orange non so quando inizierà allora spero mi si veda leggermente comunque sono appena tornata dal centro e sto in macchina perché adesso devo passare a portare il foglio dell'esame di stamattina in autoscuola così per domani mi stanno nel foglio rosa e è sempre stato il mio sogno avere il foglio rosa e dire di avere il foglio rosa e non potete capire il panico perché ero in metro a termini che per chi è di Roma o è mai venuto a Roma Termini è praticamente il centro dei mezzi pubblici di Roma cioè parte qualsiasi cosa treni navette autobus metro eccetera c'è stato allarme bomba e io stavo là tipo impanicatissima perché hanno cominciato tutti a parlare bomba bomba io facevo oddio che devo fare cioè respira non lo so cioè non sapevo che fare ed è vera la cosa che più uno si impanica è più se ero in panica però non puoi fare a meno cioè di non impanicarti perché è proprio impossibile un bambino raga un bambino si era perso la mamma me lo so preso con la mano insomma me lo so portato via Ilaria Salvatrice ragazzi ma è stata proprio una cosa spontanea poi stava piangendo proprio ci avrei avuto tipo 5 anni ma non so neanche se era italiano così l'ho preso e poi l'ho portato su da vabbè dei controllori e l'ho lasciato lì perché che faccio mi porto a casa e e alla fine niente sono uscita dalla metro ho dovuto prendere l'autobus e prendere invece il trenino ecco lo prendo sempre raga non potete capire mi batte ancora il cuore perché era allarme bomba però poi ho letto su internet cose così che in realtà era solo un allarme quindi mi sono un attimo distesa però c'è sempre stato il panico dentro di me comunque è con mio padre che torna non so se vedete questa sagomina quindi vi lascio e ci sentiamo dopo vi faccio vedere le cose che ho preso perché ho speso un po' la scarpina oddio la scarpina di guenda putrefattosa guarda come la guarda vuoi la scarpina amore quanto sei bella comunque voglio farvi vedere gli acquisti allora prima cosa l'acquisto che volevo da tanto tempo era questo le tuc che per chi non sapesse cosa sono le tuc sono le creepers proprio dette molto sciollamente e ho preso naturalmente quelle originali così nere che io questi qui le volevo da una vita cioè non potete neanche immaginare e per chi fosse interessato l'ho presa alla seconda traversa dell'inizio di via del corso ci sono due negozi attaccati tipo stile punk un po' così e le trovate questa la devo ancora aprire che poi ho trovato questo negozio che è stata tipo un'illuminazione perché non avevo idea che ci fosse un Pandora sta aprendo proprio a via del corso ho preso anche il mio Pandora così poi vi faccio vedere tutto quanto insieme e vi dico anche il negozio a che via sta eccolo qui via frattina ho appoggiato un attimo sul letto così ve le faccio vedere la prima scatolina contiene these two che non si vedranno mai comunque sono questi due alla una un charm del segno del toro che sapete che è il mio segno ok e questo invece è lei mi ha detto che era un blocco a charm e poi mi sono presa quest'altra scatolina un murano che è il primo che metto sul Pandora e la zampina di Wendy eccola qui che dietro c'è scritto I love my dog e adesso li metto sul bracciale e poi ve li faccio vedere allora ecco il bracciale ragazzi il bracciale completato cioè praticamente l'ho quasi riempito tutto penso che cioè Natale finirà finirà e oddio sono troppo contenta di come sta avvenendo l'unica cosa è che gli unici colorati sono questi due quindi dovrei metterci un po' di colore però questo cosa mi piace troppo scrivetemi qua sotto se vorreste vedere un video sul bracciale con tutti i sherbs e adesso mi vedo un'altra puntata perché prima ne ho viste no mi pare due forse una di American Horror Story comunque mi dovrei anche lavare i capelli ma mi sa che lo faccio domani mattina perché non ne ho voglia mamma mia è stata una giornata penso io che comunque di solito non è che faccio queste grandi cose oggi è una giornata proprio efficiente e e si basta quindi questo è tutto non fate caso i capelli sporchi e ci vediamo tra un pochino mi sa che stiamo andando a cena dal cinese cioè è una cosa che non è che ho capito molto bene comunque non so se vi ho detto che sabato la tizia della dell'autoscuola mi ha messo la prima lezione alle nove di mattina anche io mi sono impanicata perché ho detto già mi fa iniziare e e poi alle nove di mattina cioè che io sono ancora un occhio aperto e un altro chiuso vedremo saremo a vedere cosa succederà allora eccoci qui usci le varie cose qui qui dal china andrea manuela e giorda poi mi dite sempre se sono i miei veri genitori perché li chiamo per nome no si solo che li chiamo per nome quindi anche il vlog di oggi è finito siamo appena tornati stiamo salvando guendo sempre molte feste spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao